buongiorno amici ma soprattutto amiche di my own workout è una mattinata piovosa uggiosa e sonnolenta sto aspettando una cliente per andare a fare una seduta collinare ma nell'attesa ottimizzo il tempo guardate chi c'è qua e sapete lui chi è è lo zibaldoncino deluxe dove mi sono annotato in cui mi sono annotato un argomento un attimo da approfondire e sviluppare l'ansia da prestazione si può allenare certo che si può allenare sicuramente si può gestire con un training mentale realistico andando a fare che cosa simulando ancora e ancora e ancora ad nauseam a volte con delle routine di allenamento che diventano un pochettino lo dice la parola stessa routine quindi ripetitiva ma andarsi ad esporre a situazioni reali realistiche delle vere e proprie simulazioni di quello che poi sarà potrebbe essere un test potrebbe essere una gara target in cui fare un depuntare a gareggiare contro il cronometro di solito ma non necessariamente contro il cronometro quindi il coach cosa deve fare cosa faccio io in prima persona espongo l'atleta a piccoli dosaggi simulati di situazione reale quindi prove a tempo minuziosamente cronometrate in cui non seguo l'atleta di fianco in bici ma lo faccio correre da solo per porzioni anche sotto distanza e a ritmo target specifico in proiezione di quello che si andrà a fare nel test e quindi questa diciamo simulazione continua è anche una tecnica di visualizzazione anche che va attuata sul campo dicendo all'atleta immaginati quando arrivi ad un certo punto quando ti mancano 200 300 metri 350 metri inizia a visualizzare il gonfiabile dell'arrivo adesso vi sto illustrando un espediente che è quasi un trucco psicologico ma come dico sempre si tratta quando c'è ansia da prestazione tra virgolette atletica di portare in bella quello che si è fatto per molte molte settimane molti molti mesi in brutta diciamo è un termine scolastico diciamo così un altro ingrediente fondamentale ed è un ingrediente che non deve mai venire a mancare è la componente divertimento in quello che si va a fare voi dovete ma non dovete perché non è una costrizione la pratica sportiva che scegliete vi deve piacere non deve non dovete entrare in meccanismi che rendono appunto la vostra pratica meccanica meccanica e spesso spesso il prendere indipendenza da questo soprattutto durante l'esecuzione del lavoro vi permette di togliervi a livello psicologico dei grossi macigni delle grosse pressioni io infatti e nel 95 per cento dei casi quando faccio assistenza all'atleta dico sempre gli intermedi i parziali il fatto che tu abbia concentrato o meno i ritmi target gara di riferimento te lo dico soltanto io qua ho il mio registro che è sempre lo zibaldone deluxe dove mi segno tutto a penna old school ti dico tutto alla fine del lavoro per non per toglierti una grossa pressione psicologica da dosso e imparare a farti correre feeling based calibrando e micro calibrando le tue percezioni fisiche a che punto della distanza uso termini semplici le gambe cominciano a presentarti del bruciore che significa che c'è il lattato in aumento quando vedi che inizi a contrarti a irrigidire certe zone rilassati questo è la questa è la sintonizzazione mente corpo che in allenamento bisogna coltivare se c'è una buona forma se correte con focus forma e rilassamento postura cadenza ampiezza tutto l'aspetto tecnico gli aspetti tecnici che fanno parte della forma quando io dico correte per la forma quando viene data questa priorità se la forma biomeccanica è buona normalmente la gestione anche del rilassamento è buona spesso molto spesso io potrei tirare fuori una percentuale del 95 per cento dei casi i ritmi target e a volte anche a sorpresa si va molto molto si performa anche molto molto meglio se non si insegue un cronometro se non c'è l'ossessione del dispositivo è un approccio diverso ma ad ogni modo per gestire ansie da prestazione atletica ansie pre gara l'allenatore in questo caso io vi parlo di come faccio io vi metto in situazioni reali realistiche simulate di quello che deve essere fatto poi in gara e soprattutto è questa è una è un aspetto tecnico molto molto importante per il motivo il motivo qual è di non ritrovarvi poi il giorno che conta con il piede dietro la linea di partenza a chiedervi cosa cosa riuscirò a fare oggi no perché voi sapete fate un recap mentale e andate ad aprire i vari cassetti del vostro diario di allenamento che può essere scritto io vi consiglio di tenere un diario di allenamento scritto perché è una buona pratica intanto che vi diciamo riabitua ad utilizzare la penna cioè imparare di nuovo a tornare a scrivere a mano e non in stampatello ma poi è un compagno è un ottimo compagno questo l'agenda il diario lo zibaldoncino è un amico è un alleato meglio che i vari strava i vari dati tornate carta e penna almeno in buona percentuale fidatevi che è una buona pratica è una buona disciplina mentale quella di annotarsi a penna le cose e poi appunto arrivate in gara sapendo di aver fatto già in allenamento determinate cose e soprattutto soprattutto i lavori gara ritmo gara specifici devono essere fatti e toccati in percentuali dove si corre anche a ritmo gara quindi ci si espone allo stesso disagio ma per finestre di tempo che devono essere controllate queste finestre di tempo come devono essere dosate quali sono i dosaggi per sapere di più contattatemi ai link che trovate qua in descrizione se volete approfondire in modo personalizzato su di voi individualizzato questi principi generali trovate tutti i link in descrizione per contattarmi molto bene devo andare vi saluto da my own workout anche a questo giro è tutto allenamenti intelligenti anche se piove ragazzi non fatevi spaventare da due gocce di acqua leggera keyway sotto il la zip del keyway è funziona come un termostato e andate fuori anche quando il tempo non è ottimale non fate gli atleti stagionali della serie si corre soltanto quando la temperatura è di 20 25 gradi anche di più e ci sono condizioni ottimali buoni allenamenti e come sempre a bombazza